C'è il trocco Riprendi o c'è il foglio davanti? Perfetto Il foglio con la camera non c'è niente davanti? No Letto bene? Letto bene E tiro Respira eh Quando vuole Il foglio con la camera non c'è niente davanti? Non c'è niente davanti? Non c'è niente davanti? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti